Presidente, consiglieri, siamo giunti al terzo anno della nostra gestione, alla metà esatta del nostro mandato. Il cammino che abbiamo percorso è stato difficoltoso, ma i risultati raggiunti sono soddisfacenti. Possiamo considerare complessivamente sotto controllo la situazione economico-finanziale del Comune e raggiunta una relativa stabilità nella gestione dei flussi. Da dove siamo partiti lo ricordiamo bene e sappiamo anche quanto sia ancora lungo il cammino. Quando abbiamo cominciato abbiamo immediatamente preso atto che serviva una strategia di lungo periodo. Perciò ci siamo dedicati nell'immediato a tamponare l'emorragia, mettendo sotto controllo i conti, ma evitando di tagliare la già scarsa spesa corrente. Al tempo stesso abbiamo, da subito, avviato il risanamento, operando scelte strutturali sulla gestione del bilancio, sulle entrate, sul patrimonio, sulle partecipate, sul funzionamento della macchina comunale e espansive sugli investimenti. Dopo due anni di terapia intensiva, possiamo dimostrare il nome nella mano che la cura è efficace. E se la si persegue e la si aggiorna, le condizioni per farcela ci sono. Certo, non siamo ancora del tutto fuori pericolo, sarebbe sciocco sostenere il contrario. Ma ciò che abbiamo fatto finora non è stato solo garantirci la sopravvivenza attraverso il controllo costante dei sintomi, bensì migliorare, soprattutto consolidare, questo miglioramento progressivo. Quello che dobbiamo fare ora è rendere irreversibile questa condizione. Come in tutti i casi clinici, il problema principale è evitare le ricadute. Questo rischio, come vedremo, non si esaurisce in tempi brevi. E bisogna quindi con pazienza e costanza monitorare il decorso. Fuori di metafora, quello che intendo dire è che possiamo fare delle scelte espansive, in termini di spesa e di investimenti, ed è quello che vi proponiamo oggi. Ma senza fare il passo più lungo dalla gamba. E la misura di questo passo è data dai numeri, quelli positivi da un lato e quelli problematici dall'altro. Ciò è fondamentale perché i problemi non sono risolti. L'indebitamento è ancora molto elevato, il piano di riequilibrio si protrae per altri dieci anni, mentre il debito finanziario, ma anche il patto per Napoli, per altri venti. Peraltro i focalai di infezione sono diffusi. La riscossione migliora, ma è ancora sotto la media nazionale. E le risorse disponibili sono insufficienti ancora. Il patrimonio comunale è straordinario, ma vettusto e ha bisogno di interventi profondi. La riforma dell'amministrazione delle partecipate è ben avviata, ma risente ancora dei retaggi del passato. La manutenzione della città, mobilità, ricreazione, decoro, verde e sport sta migliorando in maniera evidente, ma richiede un incremento di risorse economiche e umane maggiore. In sostanza, l'attività del Comune sta crescendo ed esprime un comprensibile aumento di domande di risorse. Si tratta di una richiesta giusta e in molti casi addirittura necessaria, ma è superiore alle disponibilità del bilancio, soprattutto nella parte corrente. Come ricorderete, ho parlato sin dall'inizio della necessità di dotarci di una cultura del bilancio. Ebbene, questo significa oggi, anche in questa chiave, riconoscere e valorizzare i risultati positivi raggiunti e gestirli appunto in chiave espansiva, ma senza lasciarci offuscare rispetto ai problemi ancora aperti che vanno lucidamente affrontati e risolti, mettendo a frutto il principale insegnamento che abbiamo acquisito in questi due anni difficili, sia quando abbiamo fatto bene, sia quando non ci siamo riusciti. E cioè che solo un'azione collettiva, dove tutti, Giunta, Uffici, Consiglio Comunale, Municipalità, sono consapevoli e compartecipi di questa sfida, ci permetterà di raggiungere la piena guarigione, che poi vuol dire una normalità. Questo approccio avviene nel contesto di una città che sta cambiando. Come ci anticipano i dati dell'Osservatorio Economico del Comune, che abbiamo recentemente istituito in collaborazione con l'Università Svimez e che a breve presenteremo, assieme al primo rapporto, la popolazione diminuisce, nonostante l'incremento dei migranti, ma soprattutto invecchia, nonostante Napoli sia la metropoli italiana con uno dei più alti tassi di presenza giovanile. Pur presentando un numero di contribuenti inferiore alla media nazionale, il reddito dichiarato di 22.600 euro è di poco superiore a quello italiano, ma schiacciato sui redditi bassi e ampiamente al di sotto in tutte le città del nord. Il PIL è inferiore a quello nazionale, nonostante l'importante apporto del turismo. Le attività economiche e industriali risentono di grandi processi di trasformazione, pur in crescita di fatturato. Il punto fondamentale che emerge, come vedremo dall'ampio lavoro in via di definizione, è una città densa di contraddizioni, ma viva, dinamica e ricca di potenzialità, che gode di un momento speciale di attenzione globale che va utilizzato al massimo. È in questo scenario che dobbiamo agire e sviluppare il nostro compito di promozione e di indirizzo dello sviluppo di Napoli. Ed è per assolvere al meglio questa funzione che abbiamo la necessità di avere i conti in ordine e funzionare al meglio. Ecco perché nell'affrontare questa discussione, che ci porterà all'approvazione di questo bilancio preventivo triennale, dobbiamo sapere che siamo ad un punto di svolta. Il 24 e il 25 sono gli anni decisivi per raggiungere una irreversibile condizione di fuori pericolo e proseguire in una sicura convalescenza e avviarci senza ricadute verso una non breve ma costante guarigione. Che la situazione economico-finanziaria del Comune sia da considerare sostanzialmente sotto controllo lo possiamo dedurre innanzitutto da un fatto apparentemente formale, ma che a Napoli assume un significato particolare. Non essendovi, mi dicono a memoria d'uomo, ricordo di un bilancio preventivo approvato nei primi mesi dell'anno. Interpretiamolo come un anticipo di quella normalità gestionale di cui ho parlato e che stiamo perseguendo, necessarie per una buona amministrazione. Voglio cogliere simbolicamente questo risultato inedito per Napoli per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungerlo. I buoni risultati che vi sto descrivendo e che ci dobbiamo intestare sono merito del lavoro collettivo di tutto il Comune, uffici e servizi e del Consiglio Comunale, a cominciare dalla Commissione Bilancio. Grazie a tutti, ma permettetemi di ringraziare particolarmente la Ragioniera Generale del Comune e tutta l'area Ragioneria, assieme all'area Entrate e al Collegio dei Revisori che ci accompagna con grande competenza e disponibilità nel nostro lavoro e infine, ma non ultimi, i miei diretti collaboratori. Tutto ciò si sostanzia nei dati di bilancio. Il risultato di amministrazione di entrambi gli anni 22-23 registra una riduzione complessiva di 759 milioni tra disavanzo e debito finanziario. Per comprendere bene lo sforzo fatto, a questi numeri va affiancato il vincolo dettato dal blocco della spesa dovuto all'effetto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità che nel biennio 22-23 ha impegnato il nostro bilancio per circa 650 milioni. L'FCD è una norma giusta, antisuicidio come ho più volte sostenuto, perché collega la capacità di spesa alla effettiva disponibilità di entrate, ma è troppo rigida e finisce in alcuni casi a provocare l'effetto opposto, deprimere le potenzialità espansive necessarie allo stesso risanamento. È il nostro caso. Per questo stiamo chiedendo al Governo di rivedere non la norma, ma l'incidenza di alcune sue componenti. In tutto ciò abbiamo registrato un attivo netto di esercizio di 54 milioni. Come sapete, essendo noi in predissesto, non possiamo utilizzare queste risorse che vanno a scontare l'ultimo anno del piano di riequilibrio. Stiamo ponendo al Governo l'esigenza che questo risultato positivo di bilancio sia utilizzabile, almeno per abbassare ulteriormente il disavanzo, dell'anno successivo a quello nel quale si registra l'avanzo. In questo quadro particolarmente significativo è il dimezzamento del debito commerciale, da 305 a 178 milioni, ma soprattutto la riduzione dei tempi di pagamento, che è passata dai 174 giorni dello scorso anno ai 99 giorni al 31 dicembre 23, e che sta ulteriormente scendendo verso i 50 giorni. Si tratta di un risultato importantissimo per l'economia della città. Una recente circolare del MEF collega il rispetto dei tempi di pagamento di 30 giorni alla verifica della gestione del PNRR, considerando i ritardi dei pagamenti penalizzanti ai fini dell'assegnazione delle risorse. scendere rapidamente dai 50 attuali ai 30 giorni è una priorità fondamentale, ma non è facile, perché se la clamorosa riduzione raggiunta l'anno scorso è principalmente dovuta all'eccezionale possibilità di pagare la buona parte dello stock del debito, ora si tratta di rendere la riduzione strutturale. Siamo pertanto d'intesa con la Direzione Generale, provvedendo a definire un piano operativo che la Giunta ha approvato nei giorni scorsi. Ricordo infine che abbiamo ottenuto un miglioramento del rating del Comune, che è passato nel 22 da stabile a positivo e nel 23 da BB a BB+. E vi comunico volentieri che nella prima revisione di marzo 24 Ficcia ha riconfermato per il Comune di Napoli la valutazione BB+, con Outlook positivo. Abbiamo dunque contestato le proibitive condizioni di partenza, che ricordo 5 miliardi di buco del bilancio, riscossione ai minimi storici, gestione gonfiata delle alienazioni, carenza di personale e mezzi. E nonostante l'elettricità intervenuta e principalmente l'inflazione, che ha comportato una pesante revisione dei prezzi, è un incremento esagerato dei costi energetici esplosi nel 22, che pesano sul bilancio per circa 80 milioni. Nonostante tutto ciò, non solo abbiamo evitato il dissesto del Comune, cioè quello che in diritto amministrativo si chiama fallimento, ma ha avviato il risanamento. Infatti la inversione di tendenza dei conti si è riflessa positivamente su tutta l'attività del Comune, approfittando anche del rilevante contributo che siamo riusciti ad ottenere dal PNRR e da altre fonti pubbliche nazionali ed europei, in particolare le politiche di coesione. Il totale delle risorse finanziarie assegnate all'amministrazione e disponibili nella spesa entro il 27 è di circa 1 miliardo e 700 milioni, 54 d'Europa e 46 da derivazione nazionale. Con queste risorse abbiamo avviato progetti di recupero e rilancio della mobilità, le linee metropolitane innanzitutto per circa 700 milioni, di rigenerazione urbana e sociale, le vele e taverna del ferro per oltre 350 milioni, di igiene e decoro, pulizia, verde e cittadino per circa 100 milioni, del patrimonio omnoventale ed artistico, culturale ed educativo per tutti l'albergo dei poveri, per altri 500 milioni. Ma abbiamo al tempo stesso dato vita ad un'attività propria e gestito molte emergenze, sia negative come crolli e di ordine pubblico, ma anche per fortuna positive. Prima fra tutto il turismo, esplosso in questi due anni e gestito dal Comune con iniziative innovative rivolte all'accoglienza, penso ad esempio alle campagne di Napoli e poi, con le quali abbiamo affrontato il rilevante afflusso di ospiti che ha registrato 11 milioni di presenze nel 22 e ben 13,5 nel 23. Fenomeno che possiamo ormai considerare strutturale e che pone il duplice problema dell'adeguamento delle strutture ricettive, alberghiere, mobilità e ordine pubblico ai fini della migliore accoglienza e del controllo delle conseguenze, che è un fenomeno di massa, con le caratteristiche invasive proprio il turismo comporta, e molte città ormai lo conoscono, che provoca sulla natura stessa della città sui residenti e sui luoghi principali. Va proprio in questa direzione di sviluppo della città in un'ottica di generazione e salvaguardia la messa in cantiere del nuovo piano urbanistico. Abbiamo anche incrementato le politiche sociali innovative contro la violenza di genere a favore dei giovani della prevenzione sanitaria che erano totalmente definanziate. Ancora abbiamo avviato una campagna per la legalità, sia sul fronte dell'ordine pubblico che della tutela e regolarizzazione del patrimonio comunale. Abbiamo perseguito e ottenuto il riconoscimento di Napoli, capitale dello sport, del 26, e avviato un accordo con la Federazione Italiana Nuoto per la gestione delle piscine comunali. Abbiamo infine scosso la macchina comunale dal torpora nel quale versava, soprattutto assumendo oltre un migliaio di giovani donne e uomini, di cui un centinaio di dirigenti, che si sono perfettamente inseriti, anche per merito della disponibilità con la quale la dirigenza e il personale già in servizio hanno accolto e accompagnato questa ventata di aria fresca. Sono state soprattutto incrementate figure professionali scarsamente presenti in organico, addirittura assenti, agronomi, assistenti sociali, educatori, esperti culturali e informatici. Si aggiunga che nel frattempo sono stati realizzati, d'intesa con le organizzazioni sindacali, un importante numero di percorsi di carriera, il che comporta, tra assunzione e percorsi interni alla definizione, quasi 3.000 nuove posizioni. Complessivamente si tratta di un impegno rilevante, se si pensa che il bilancio impegna per il personale circa 300 milioni. Ma non è finita, le graduatorie ancora attive saranno gestite anche nel prossimo triennio, prevedendo nel solo 24 l'ingresso di oltre 300 persone. Bene, questi positivi risultati, di cui quelli citati sono solo un parziale elenco, sono, come abbiamo detto, certamente merito degli impegni di tutti, del Sindaco, della Giunta, degli uffici, della collaborazione col Consiglio e le Commissioni. Ma, a due anni di distanza dalla firma, possiamo dircelo senza possibilità di smentita, senza il patto per Napoli, tutta la nostra buona volontà e la capacità sarebbero state vane. Innanzitutto perché, senza le risorse previste, 1 miliardo e 231 milioni, non avremmo evitato il dissesto e non avremmo avuto alcuna agibilità di movimento. Ma, avendo voluto che il 40%, cioè circa 500 milioni, fossero concentrate nei primi cinque anni, abbiamo governato i flussi, onorato le scadenze, ridotto l'indebitamento e il disavanzo e il debito commerciale, migliorato i servizi. Ma direi, quasi soprattutto, perché il patto ha messo in moto un processo di definizione strategica degli obiettivi da perseguire e una riorganizzazione amministrativa senza precedenti, a cominciare dal rispetto di tutti gli adempimenti fiscali e non solo concordati col patto. Innanzitutto l'addizionale IRPEF che abbiamo incrementato, come sapete, di 0,2 punti e l'incremento, elevando l'esenzione a 12 mila euro, l'incremento ogni punto percentuale di 9 milioni. Ma, attenzione, l'accertato risulta superiore di circa 10 milioni. Questo incremento non forzoso delle entrate IRPEF è un buon segnale. Secondo, l'addizionale sui diritti di imbarco di 2 euro per i passeggeri in partenza da Capodichino. L'addizionale è entrata in vigore l'8 abrile del 23. Nonostante ciò, la stima iniziale di almeno 10 milioni di entrate è rispettata, in quanto i passeggeri in transito sono stati oltre 10 milioni, di cui più di 5 e 1 quelli imbarcati, che è il dato di riferimento per le nostre entrate. Come sapete, sulla istituzione della tassa d'imbarco si è sviluppata una lunga vicenda giudiziaria, che ha visto Gelsac e le compagnie ricorre dal TAR, che ha però dato pienamente ragione al Comune di Napoli. Questo contenzioso ha rallentato per mesi le operazioni di incasso, ma finalmente, nei giorni scorsi, è stata conclusa la convenzione tra Comune e Gelsac a chi attiva la riscossione. Terzo, avvio del recupero della riscossione con l'affidamento a Napoli obiettivo valore. I primi dati sono confortanti. Al 31 marzo del 24 sono state spedite quasi 540 mila cartelle per un complessivo di 502 milioni. Il recupero, dopo i primi 4 mesi, è di quasi 37 milioni complessivi. È un buon inizio. È bene ricordare che l'universo dei contribuenti morosi è di quasi 2 miliardi, 800 milioni tari, 770 multe, 250 imu, 70 cosa per pubblicità. Di questi, circa 900 milioni sono quelli consegnati o consegnare nella prima fase del progetto a Napoli obiettivo valore e per i quali si avvierà la discussione. In valore assoluto, il dato più rilevante viene dall'omesso pagamento tari per oltre 15 milioni. Tutto ciò senza contare l'evasione vera e propria che non conosciamo e che comincia solo ora ad essere intercettata. Già di questi primi numeri il recupero di evasione è di 6 milioni e mezzo. Ciò provocherà un effetto collaterale positivo l'allargamento della platea dei contribuenti che rappresenta il vero valore aggiunto di questa impegnativa operazione. Inoltre, mentre la riscossione coattiva riguarda il recupero di crediti noti iscritti in bilancio in conto residui che però comunque produce un effetto positivo sul fondo crediti di dubigibilità, quelle da evasione sono davvero entrate fresche. Di quasi 37 milioni incassati oltre 13 sono già interamente saldati e più di 23 rateizzati. Una riflessione particolare infine voglio fare sulle percentuali di risposta molto differenziate. si va dal 29 dell'evasione Tari all'1,5 delle sanzioni al codice della strada che conferma la sua problematicità. Tasse e rappresentanza vanno insieme. Se è vero che non ci può essere in posizione fiscale senza rappresentanza politica e sociale e questo è il presupposto di ogni politica fiscale moderna possiamo dire anche il suo rovescio e a Napoli in particolare che non ci può essere rappresentanza ovvero diritti servizi e tutele senza un regolare flusso di entrate fiscali. Un altro aspetto significativo di questo percorso è la valorizzazione del patrimonio immobiliare avviata anche con l'accordo Invimit con la prima assegnazione di 6 immobili e 3 caserme per un valore complessivo di 46 590 milioni che corrispondono ad un'entrata in comune di 16,77 che saranno versati come d'accordi a novembre di quest'anno. Un ulteriore intervento programmato per un totale di 457 milioni Ancora le transazioni dei debiti commerciali che ha rappresentato una singolare novità nel patrimonio della gestione del risanamento del bilancio L'importo totale transato è di 24 milioni e vanno aggiunti 19 dovuti alla cancellazione dei debiti commerciali conseguente alla mancata presentazione delle istanze ma ci siamo mossi anche con misure non previste dal patto l'adeguamento delle tariffe tari che non venivano adeguate dal 2019 quindi gli aumenti intervenuti 12% per le domestiche e 22% per le non domestiche non sono relativi all'anno 23 nel quale sono scattati ma sono comprensivi dei mancati aumenti del quadriennio precedente l'importo accertato nel 22 è di 216 milioni nel 23 la copertura al PEF è stata di 253 milioni quest'anno nonostante l'aumento dell'inflazione siamo riusciti insieme ad Asia a contenere i costi in una percentuale di incremento del tutto fisiologica dell'1,3 dobbiamo al tempo stesso dar corso alle due decisioni che abbiamo previsto lo scorso anno l'applicazione di un bonus di ristoro dei costi energetici per le famiglie che hanno pagato la Tari del 23 la possibilità di riduzione della Tari fino al 100% per le persone in difficoltà a tal fine va prevista una dotazione iniziale che definiremo assieme all'assessorato al welfare e una volta definito il PEF e le tariffe conseguenti provvederemo con un'apposita variazione di bilancio alla copertura necessaria l'incremento dell'imposta di soggiorno è un altro punto importante esso ha comportato un aumento tra il 22 e il 23 di circa 4,2 milioni dovuti sia all'aumento dell'imposta che all'accresciuto numero dei pernottamenti che è passato da 4,5 milioni nel 22 a 5,6 nel 23 quasi oltre un milione in più di pernottamenti permane però un elevato tasso di evasione al quale si sta provvedendo anche con apposite interlocuzioni con gli operatori del settore in definitiva con un'accorta politica di gestione della spesa che ha portato a equilibrare la domanda di risorse con l'effettiva capacità di spendere abbiamo come ho detto non solo evitato i tagli ma incrementato la spesa corrente di circa 50 milioni una quota rilevante della quale è andata alla manutenzione a partire dagli 8 milioni in dotazione alla municipalità interessante anche notare che per l'efficientamento energetico abbiamo speso circa 38 milioni senza questa strategia e queste scelte operative lo stesso impiego delle risorse provenienti dal patto rischiava di venire inghiottito dal buco nero del predissesto nel quale ancora ci dibattiamo peraltro questo è proprio il senso del patto che rappresenta come ormai consolidato da tutti un esempio del nuovo rapporto tra Stato e enti locali ma come abbiamo detto la strada da percorrere verso il risanamento definitivo è ancora lunga le drammatiche condizioni di partenza ci condizioneranno ancora per tempo è ancora molto alto il disavanzo 1 miliardo e 845 milioni 825 355 euro che per il triennio prevede un percorso di rientro di 187 milioni nel 2024 175 nel 25 175 nel 26 analogo a situazione rappresentata dal debito finanziario complessivamente inteso che ammonta 2 miliardi 486 con un impegno di rientro di 255 milioni nel 24 237 nel 25 230 nel 26 l'impegno a ridurre disavanzo e debito comporta quindi un vincolo rilevante per il nostro bilancio dobbiamo accantonare quest'anno 255 milioni per la rata del debito e 187 50 milioni in più rispetto al 23 per il disavanzo un totale di 443 milioni se aggiungiamo il blocco della spesa derivante dal fondo crediti di dubbligibilità e altri vincoli minori per il 2024 dobbiamo accantonare complessivamente prima ancora di iniziare ad operare circa 770 milioni di euro più o meno questa è la discussione e la dimensione anche per gli anni successivi ai soli fini del mero calcolo contabile e statistico vanno considerate come vincolo anche le risorse positive ovviamente con le quali annualmente il comune finanzi i servizi e i cittadini attraverso le partecipate per l'igiene urbana il contributo ad Asia si aggira sui 250 milioni che dovrebbe rientrare attraverso la Tari ma se consideriamo il mancato incasso del circa il 40% possiamo considerare che il bilancio comunale interviene con un saldo di almeno 100 milioni che stanno nell'accantonamento dell'FCDE per il trasporto pubblico locale abbiamo aumentato a 48 milioni quest'anno e 50 dal 25 la dotazione di bilancio DNM e siamo consapevoli della priorità che assume il trasporto pubblico locale anche nella prospettiva del riaffidamento del servizio ciò comporterà una riflessione anche sulle dotazioni di bilancio ulteriori per la multi utility sono confermati 78 milioni per quest'anno a Napoli servizi ma sappiamo che il contratto scade il 31 dicembre di quest'anno per cui anche in previsione del processo di riorganizzazione le previsioni 25 e 26 sono state decurtate di un ipotetico 10% circa colgo l'occasione per dire che è arrivato il momento di concludere di ordino del sistema delle partecipate di cui abbiamo molte volte parlato propongo di decidere che appena conclusa la sessione di bilancio apriamo nelle commissioni competenti una discussione conclusiva che ci porti entro giugno ad una delibera che definisca il quadro per completare il quadro previsionale dei vincoli va tenuto presente che dal 26 annualità che con questo bilancio pluriannale entra nell'orizzonte temporale delle previsioni è prevista una drastica riduzione dei contributi proveniente dal patto per Napoli che si attesta su 46 milioni circa più o meno costanti sino al 32 dal punto di vista contabile va tenuto infine presente la novità prodotta dall'introduzione da quest'anno del bilancio tecnico che impone alla ragioneria l'obbligo di predisporre in anticipo un quadro previsionale di partenza non condizionato da preventive valutazioni politiche le quali intervengono legittimamente a valle della definizione del quadro assestato anche con le richieste degli uffici competenti dentro questo quadro di vincoli di partenza è necessario quindi esplicitare una strategia che ci consenta di rispettare queste limitazioni ma al tempo stesso implementare le iniziative del comune in funzione dello sviluppo della città il punto dunque è che è necessario essere al tempo stesso prudenti ed accorti nella gestione ma intraprendenti e coraggiosi nella programmazione cioè bisogna contemporaneamente agire di più sulle entrate risparmiare e controllare la spesa per continuare ad abbattere il debito ma spendere di più per crescere è un'equazione non facile ma è la sola strada possibile si tratta però di operare delle scelte la prima delle quali resta la completa realizzazione del patto per Napoli come esplicitamente raccomandano i revisori nella loro relazione al bilancio e le vere prove della sua efficacia futura sta nelle due gambe con le quali camminerà nei prossimi anni la valorizzazione del patrimonio e la buona riscossione in conseguenza di questa impostazione il bilancio pluriannale di Napoli a partire dal 24 prevede dal lato delle entrate una previsione realistica delle possibilità di risorse disponibili siamo però ancora lontani dalla definizione di obiettivi di entrata collegati alle potenzialità di recupero di risorse necessarie alla capacità di spesa l'esito di questa ricognizione ci dice che le entrate correnti al netto del contributo del patto per Napoli sono per il 24 1 miliardo 1 miliardo 549 per il 25 1 miliardo 55 e per il 26 1 miliardo 531 con una distribuzione che trovate esplicitata nella tabella collegata deludenti deludenti 80 milioni ogni anno per l'atari 80 milioni nel 24 63 nel 25 61 26 le previsioni sono in linea con quanto si prevede dal lavoro di Napoli i servizi per quanto riguarda altre voci alcune sono francamente inadeguate come ad esempio la pubblicità dove si prevede di recuperare 250 mila euro è necessario perciò porre una maggiore attenzione all'intera problematica delle entrate ponendoci l'obiettivo di incrementarle senza ricorrere ad ulteriori tasse o tributi salvo aggiustamenti fisiologici contiamo invece molto contiamo sicuramente molto sugli esiti del lavoro di municipia ma non dobbiamo affidarci solo a questo intervento straordinario dobbiamo concentrarci anche su campi ancora poco esplorati quali ad esempio i canoni patrimoniali la pubblicità i condoni i servizi a domande individuali di cui abbiamo molto parlato stamattina i canoni concessori i ponteggi i cantieri i passi carrai le ZTL le strisce blu i parcheggi la tarifazione di biglietti e tariffe turistiche non tutto sempre per aumentare ma in molti casi per razionalizzare come abbiamo discusso nei giorni scorsi nella commissione consigliare competente e come abbiamo stamattina in occasione della oggi in occasione dell'approvazione della delibera deciso che apriremo una discussione su queste materie sempre con attenzione alle entrate bisogna sviluppare di più la valorizzazione ed alienazione del nostro patrimonio sia intensificando il programma con InVimit prevedendo al più presto un ulteriore elenco di immobili da assegnare al fondo ma anche sviluppando una più intensa azione in proprio nonché portando a compimento la costituzione della Napoli patrimonio sul lato delle uscite abbiamo cercato di organizzare gli impieghi su precisi obiettivi adeguando il bilancio tecnico ad un condiviso ordine di priorità su tre fattori primo spesa corrente proseguendo con le politiche equilibrate adottato finora per la spesa corrente prevedendo comunque anche per quest'anno un ulteriore aumento di spesa corrente di circa 30 milioni secondo investimenti finanziati con risorse pubbliche che come abbiamo visto sono molto rilevanti terzo piano straordinario investimenti promosso e gestito dal Comune per finanziare il quale dobbiamo rivolgerci al sistema creditizio abbiamo avviato un dialogo con la Banca Europea degli investimenti e il credito sportivo e siamo pronti a concretizzarlo appena il Consiglio Comunale ci dà il via libera con l'approvazione del bilancio in generale le tipologie di spesa sono molto sono molto diciamo diffuse e articolate lo vedete nella tabella legata vediamo però nel dettaglio rapidamente i tre filoni di intervento la spesa corrente a netto degli accorpamenti di legge è pare a 1 miliardo 295 nel 24 1 miliardo 154 nel 25 1 miliardo e 50 nel 26 non spaventi la riduzione negli anni successivi è tipico della formazione dei bilanci pluriennali in questo caso il riferimento vero è il 24 che con riferimento agli incrementi aggiuntivi decisi quest'anno c'è quei 30 milioni di cui ho parlato in aggiunta allo storico vengono confermati i capitoli di bilancio in particolare 1 milione in più al turismo 6 milioni in più a infrastrutture e TPL 6 milioni al patrimonio 4 all'accoglienza al welfare all'accoglienza ai minori e disabili 3 al verde potature e spazzamento 1 alla sicurezza 500 mila euro la promozione della città un piano specifico di promozione dell'immagine di Napoli 400 mila euro i giovani che sembra poco ma il finanziamento più alto che finora c'era stato 400 le scuole un intervento sui centri antiviolenza e un intervento tecnico sull'urbanistica merito un'attenzione a alcune voci specifiche la manutenzione complessivamente sono 28 milioni nel 24 22 nel 25 e 17 nel 26 ma con la precisazione che ho fatto prima nella tabella che trovate vi è anche un dettaglio di questa distribuzione tra i vari capitoli municipalità 8 milioni patrimonio 3 e 6 infrastrutture 4 salute verde 4 sport 2 e 3 eccetera eccetera la previsione di gettito per l'imposta di soggiorno per il 24 è stimata in 20 milioni la ripartizione attuale prevede che detratta la quota di competenza di Napoli servizi il 70 va dalla cultura ovvero una quota aggiuntiva di 3 milioni il 30 va dal turismo con una quota aggiuntiva di un milione c'è da chiedersi se visti gli sviluppi intervenuti in città in questi due anni questa distinzione rigida sia ancora valida infine il secondo punto è quello della spesa finanziata dagli enti pubblici complessivamente il comune disporrà come ho detto di quasi 2 miliardi e come si può vedere dalla tabella una elevata percentuale di queste risorse è spesa nell'anno 24 e infine l'ultimo punto è il piano straordinario degli investimenti il piano di investimenti che proponiamo è promosso e gestito direttamente dal comune di Napoli si tratta di una scelta coraggiosa fortemente voluta dal sindaco che evidenzia bene il punto di equilibrio nel quale ci troviamo che è il filo rosso di tutta questa mia relazione affiancare all'intervento della spesa corrente che è obbligatoriamente contenuto una spesa importante per dimensioni e qualità che abbia un carattere programmatico la proposta di accendere un finanziamento con la BEI per almeno 30 milioni e col credito sportivo per 6 che è la quota massima finanziata senza interessi per dare prova dell'affidabilità di questa scelta abbiamo inserito nel bilancio a partire dal 25 la copertura della ipotetica rata di pagamento dei nuovi mutui essendo necessario un cofinanziamento abbiamo richiesto agli uffici di liberare vecchi mutui che non essendo utilizzati ma attivi possono essere reimpiegati a questi possiamo aggiungere il finanziamento di 11 milioni della città metropolitana dello scorso anno e 8 milioni destinati all'efficientamento energetico provenienti in compensazione dalla vendita della rete del gas si tratta ora di decidere la destinazione di queste risorse si intravede l'urgenza di intervenire sulle strade sulle case popolari sullo sport su altri impieghi ma si tratta di scelte politiche che devono trovare una comune intenzione tra l'amministrazione in uno stretto rapporto di collaborazione tra il sindaco la giunta e il consiglio comunale Presidente e consiglieri quando abbiamo cominciato abbiamo lanciato lo slogan dal patto per Napoli al patto con Napoli oggi abbiamo fatto un passo in avanti e chiediamo e ci chiediamo assieme ai cittadini che valore ha Napoli per te la risposta alla sola possibile sta nella qualità del nostro impegno abbiamo detto in premessa che ci attendono due anni decisivi abbiamo visto i numeri analizzato i problemi e le potenzialità non c'è altro da aggiungere se non che dipende da noi grazie assessore Barretta allora io ho già iscritto iscritti a parlare i consiglieri Savarese Datri qui